C'è chi profetizzava che con la diffusione di internet si sarebbe decretata la fine di dialetti e parlate locali. Nulla di più errato dato che grazie alla rete le minoranze linguistiche godono di una nuova linfa e sono più vive che mai. A testimoniarla una tavola rotonda, le minoranze linguistiche nell'era digitale, organizzata sabato 12 maggio allo stand del Consiglio regionale al Salone del Libro di Torino. Sottolineata anche l'importanza della multimedialità, cioè poter ascoltare la lingua e non solo di leggerla attraverso un sito che inoltre riesce a trasformare zone geograficamente marginali in luoghi centrali grazie alla rete.